Sì, si intende! Tu puoi stare anche appoggiato lì come se stessi... Non c'è la metà dietro secondo me. Eh, ehm... Esageriamo. Che ci fiega? Questo lo lascio aperto. Vediamo? Tanto lo sono da motore, adesso. Piscola? Piscola? No, meglio... Anche perché lei vi si sollevava totalmente. Capito? Queste cose qua, no? Anzi, direttamente... Poggia il braccio in mezzo alle tette. Vai! Poggia il braccio al mezzo alle tette! Se vuoi tu da me? Vado dietro, fate voi! Sì! Anche qui... Facciamo? Una manetta. E tu che... Cerchi di scappare, prova... Tira tu, lei non tirerà. Così? Sì, esatto. Cazzo! Ok, devo rifarlo. E tu che la tiri e... Ok, facciamone una... La tiri. Ok. E tu che la tiri? Allora! Ok. Ciò... E tu che la tiri... Un po' noi, c'è... Questa. Nòi, c'è, voilà. Oh, va! C'è, tu che... Prossimo! E tu che! Grazie.